Quanti a Civitavecchia attendevano la costruzione dei nuovi 3.000 loculi del project financing per poter dare una sistemazione ai loro defunti che sono stati tumulati provvisoriamente dovranno probabilmente attendere ancora. L'iter relativo alla giudicazione si è infatti fermato perché una delle due società che avevano presentato il progetto ha presentato ricorso al Consiglio di Stato e la vicenda sta avendo anche ripercussioni in ambito politico. Se per la costruzione dei 400 loculi interamente finanziati dal Comune per una somma vicina ai 500.000 euro e che saranno utilizzati per la gestione dell'ordinario e di eventuali emergenze non sembrano esserci problemi, lo stesso non può dirsi per gli altri 3.000 loculi che dovrebbero essere realizzati attraverso un project financing. La data di inizio dei lavori infatti è al di là dal venire, anche e soprattutto perché la vicenda è all'attenzione dei tribunali amministrativi. I progetti in ballo erano due, possiamo chiamarli delle società A e B e a titolo di esempio gli uffici di Palazzo del Pincio avevano scelto il secondo. Ma l'altro promotore ha presentato ricorso prima al Tar e adesso al Consiglio di Stato e la controversia sembra destinata comunque a non avere tempi brevi. Sarebbero diverse infatti le anomalie denunciate dai ricorrenti nel loro ricorso alla giustizia amministrativa. Non solo, sarebbe anche emerso che esisterebbero problemi di copyright rispetto al progetto presentato agli uffici comunali. In sostanza la società A sosterrebbe che l'elaborato tecnico che accompagna la proposta formulata dai concorrenti è stranamente identico a quello che lei aveva prodotto in precedenza. Ma c'è anche dell'altro. Proprio alla luce di alcune presunte anomalie nelle procedure seguite il consigliere comunale del buon governo Vittorio Petrelli ha infatti presentato nelle scorse settimane una richiesta al sindaco, al segretario generale, al presidente del consiglio comunale, al dirigente del servizio e al responsabile del procedimento affinché si valuti l'opportunità di sospendere la procedura di gara al fine di evitare un potenziale danno erariale. Petrelli chiede anche di ritirare agendo in autotutela ogni atto finora assunto. Secondo Petrelli tra l'altro la scelta sarebbe stata effettuata dai soli uffici mentre avrebbe dovuto essere di competenza del consiglio comunale. Rubinetti a secco dalle 23 alle 7 di mattina è la problematica con la quale si trovano a fare i conti tanti civita vecchiesi che abitano in diversi punti del centro città. Una situazione che si pensava fosse limitata al periodo estivo causata dal maggior numero di utenze che come ogni anno hanno affollato il litorale ma che invece persiste tuttora i particolari nel servizio. L'ottimismo di cui tutti più chi meno siamo lotati portava a pensare ad un problema estivo legato ad un incremento della fornitura dovuto all'aumento delle utenze sul mare sulla linea litorana distributiva di Acea tra Roma e Civitavecchia che si sarebbe dunque risolto con la fine della bella stagione. Ed invece il disservizio della totale assenza di acqua dai rubinetti di Civitavecchia nelle ore notturne c'è ancora. L'acqua mannara, come l'abbiamo ribattezzata, continua a far paura soprattutto ad alcune fasce della popolazione. In particolare a chi ha bisogno dell'acqua tra le 23.30 e le 7 di mattina quando cioè dai miscelatori di tantissime case della città non esce neanche una goccia del prezioso oro blu. Le segnalazioni alla nostra emittente continuano ad arrivare da diverse zone del centro, soprattutto da via 25 Aprile, via Pollodoro, via Lepanto ma anche da via Le Baccelli, via Isonso, via Unione e via della Maradam e ancora dalla zona intorno di Talcementi e da via Bracianese-Claudia parallele comprese. Come detto il problema è quello denunciato a più riprese dai cittadini durante l'estate e che continua a non avere spiegazioni da parte di Acea che a Civitavecchia gestisce il servizio idrico. In sintesi, nelle ore serali la pressione cala a tal punto che intorno alle 23.30, orario che varia a seconda delle zone, non esce più un filo d'acqua dai rubinetti. Questo causa grossi problemi, soprattutto a chi non ha il serbatoio. A partire dall'impossibilità di fare una doccia per chi per esempio è renduce da un turno di lavoro notturno oppure deve uscire all'alba per prendere il treno. Non solo, altre criticità sono collegate con i guasti a cui vanno incontro gli elettrodomestici che utilizzano l'acqua su tutti lavatrici e lavastoviglie che tanti cittadini hanno l'abitudine di programmare nelle ore notturne per risparmiare in bolletta. Il problema persiste e tornano le domande ad Acea e all'amministrazione comunale che dovrebbe farsi portavoce delle istanze dei cittadini. C'è un guasto che prima o poi sarà risolto? È un disservizio temporaneo? Si tratta di una decisione volontaria per razionare l'acqua che non è stata comunicata ai cittadini? Ai posteri l'ardo sentenza. Il bunker di fabbricazione italiana, molto probabilmente utilizzato come postazione di mitragliatrici a difesa della costa italiana durante la seconda guerra mondiale che si trovava tra la Lega Navale e via Pietro a Mascagni a Borgo De Scalchi, è crollato a causa delle mareggiate degli ultimi giorni. A parlarne è l'associazione Bioma che lo scorso 31 agosto aveva sollecitato gli organi competenti ad effettuare un sopralluogo in quanto preoccupati di un eventuale pericolo di crollo e da altri potenziali rischi. La zona, scrivono da Bioma, durante il periodo estivo è molto frequentata dai cittadini di Civitavecchia che vedono in questo lembo di tratto roccioso, un rifugio dall'AFA facilmente raggiungibile a piedi. Le violente mareggiate dei giorni scorsi hanno messo fine al bunker, patrimonio storico e culturale. Per fortuna il crollo non ha causato feriti ma la distruzione della postazione militare è una mancanza di rispetto per tutte le vittime civili e in divisa del sanguinoso conflitto armato che ha devastato la nostra città. Nuovo appuntamento con il cartellone del Granari Spazio Off dedicato agli artisti del territorio sabato alle ore 21 in cui si potrà assistere alla partita di Natale della compagnia The Alpha Sapiens. Lo spettacolo è scritto da Danilo Catalani, autore anche del libro da cui è tratto, ossia la partita di Irpes e diretto da Roberto Fiorentini, entrambi in scena con l'accompagnamento musicale di Giovanni Cernicchiaro. L'associazione Mare Nostrum 2000 ricorda che anche quest'anno ha intrapreso le attività per l'organizzazione del Palio Marinaro in onore di Santa Fermina programmato per il 20 e 21 aprile nell'ambito dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona. Sono aperte le iscrizioni nella categoria senior sia ad equipaggi femminili che maschili composti da quattro rematori e il timoniere in rappresentanza del proprio rione di appartenenza. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza e a tutte le associazioni di ogni tipo. Per tutte le informazioni potete leggere Emiliano Marsilli si sta godendo la valanga di attestati di stima dopo il match contro Gavin Winne ed è stato premiato dalla compagnia portuale che lo ha sostenuto nella corsa al titolo europeo anche con tanti compagni di lavoro che sono andati a vederlo in Gran Bretagna. Ma la carriera del tizio a differenza di quello che tutti potevano pensare non è finita. Il maestro Massai vuole coinvolgerlo per una nuova via, le Olimpiadi di Parigi 2024 e nei prossimi giorni si potrebbe concretizzare la cosa di concerto con il presidente della Federpugilato Flavio D'Ambrosi anche considerando la non vasta presenza di pugili italiani nei pesi leggeri. Ascoltiamo un estratto delle interviste che potete seguire in forma completa sulla pagina Facebook di TRC Giornale. Celebrazioni questa mattina alla compagnia portuale per questo grande match che ha fatto Emiliano Marsilli a Londra. Emiliano un commento su quello che è avvenuto, davvero un'ottima prova, un'importante match hai condotto contro Gavin Winne. Match è andato bene, abbiamo dimostrato veramente di saper fare il pugilato, di dargli una lezione proprio di pugilato vera anche nel suo campo, sia nel corpo a corpo, sia nella tecnica, sia a lunga distanza, in movimento. Gli abbiamo dato una lezione vera di pugilato. Con il mio maestro Massai e Patrizio Ciribotti e la compagnia mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto in tutto e per tutto e anche le imprese portuali e le imprese locali. Ringrazio a tutti quanti, ringrazio anche il comune che ci ha dato una mano. La ciliegina sua torta era portare a casa proprio il titolo, la cintura. È come se abbiamo vinto, perché pure che mi sono ritirato al nono round per un infortunio alla spalla, una capucciata che ho preso e mi ha spaccato l'occhio. Andando avanti secondo me era rischioso perché con braccio in meno, con taglio sull'occhio, fare ancora quattro round non era da sottovalutare ed è che il mio avversario crescesse e potrebbe mettermi in difficoltà. Emiliano è un compagno, un socio della compagnia portuale, oltre ad essere un amico e un grandissimo atleta. Tramite la compagnia portuale gli abbiamo dato la possibilità di allenarsi e dobbiamo dargli la possibilità di poter allenare insieme a Mario e insieme agli altri professionisti e far sì che le loro professionalità, le loro conoscenze del pugilato diano ai ragazzi di oggi e che ovviamente dovranno vedere e rivedere il match di Emiliano venerdì perché sicuramente li aiuterà almeno, almeno per il coraggio, almeno per quello che è l'amore, per lo sport, per la nobile arte e per tutto quello che concerne il pugilato che Emiliano ha nel sangue. Non so dirlo che deve lasciare il pugilato perché ovviamente sono anni che litighiamo tutti i giorni nelle preparazioni, ci ammazziamo tutti i giorni e dunque bisogna che si spenga questo contatto. Però io vorrei fare un'osservazione, prima di farlo lasciare vorrei dire, visto e considerato che ha dimostrato di essere ancora un ottimo pugile, perché non fare i selezionamenti per le Olimpiadi? La sua idea è importante. Tre riprese, ci andiamo a giocare questa tecnica e tattica che abbiamo che da giovane non ha fatto, dunque è arrivato il momento credo, no? No, non mi dispiacerebbe una cosa del genere, visto che l'Olimpiadi io non l'ho fatti, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta fare tre riprese da tre minuti e fare la selezione dell'Olimpiadi, non è da sottovalutare questa domanda. Sarebbe il secondo, sarebbe il nostro secondo socio della compagnia portuale perché la prima medaglia italiana alle Olimpiadi l'ha presa Vittorio Damagnini, era socio della compagnia portuale Civitavecchia. I ragazzi della Mexican continuano a inanellare successi di prestigio, questa volta ad Orvieto per la prima gara nazionale organizzata dalla FIC, valida per la classifica che determinerà la composizione della squadra italiana che a ottobre 2024 partirà per Buenos Aires per partecipare ai campionati del mondo della IQ. Da sottolineare il prestigioso primo posto nel comité juniors di Mariana Marcelletti che sbaragliava le pur brave avversarie con punteggi tennistici senza subire neanche un punto nei tre incontri disputati. Grande prestazione del giovanissimo Jacopo Scala che otteneva le medaglie di bronzo nel Catà e uno splendido argento nel comité. Ottima anche la medaglia di bronzo ottenuta dalla brava Flavia Di Cicco nel Catà Juniors. Ottima anche la medaglia di bronzo ottenuta dalla brava Flavia Di Cicco nel